Siamo con Andrea Troisi, direttore del gruppo di lavoro di fondi dirigenti che ha curato questo studio tra i manager italiani in cui è emerso un nuovo modello di competenza per la governance finanziaria. A contatto con i manager, qual è la competenza più importante per i manager italiani? Quella più importante è sicuramente quella legata al mondo dell'IT e della security e anche della privacy. Sostanzialmente il nostro modello ha permesso di avere una duplice forchetta, quella non solo del livello di importanza richiesto ma anche del livello di presidio e abbiamo notato come quella dell'IT e della security e quindi anche della privacy era quella che superava l'80% in termini di richiesta. E mai come oggi, anche vedendo i tempi che corrono, risulta essere effettivamente una delle competenze basilari visto ormai che tutto il mondo ruota intorno al mondo dell'online, cosa che ovviamente due o tre anni fa era impossibile pensare. Quindi la competenza dell'IT e della security, relegata anche al mondo della privacy, è sicuramente quella più richiesta ed è anche quella più effettivamente venuta fuori dalla survey che come diceva ha coinvolto i 400 manager su tutto il territorio nazionale senza distinzione di tipologia di aziende, dalle PMI alle grandi imprese e dalla Sicilia fino a Friuli, Venezia e Giulia. Tutti nell'elencare la competenza principale hanno assolutamente descritto quella dell'IT e della security.